La Guardia di Finanza di Salerno ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a sette persone ritenute responsabili a vario titolo di una frode fiscale transnazionale dal valore di circa 12 milioni di euro. Gli accertamenti delle fiamme gialle della compagnia di Agropoli hanno interessato inizialmente il titolare di una società di commercio all'ingrosso di ecocombustibile, un uomo senza alcuna esperienza manageriale che già dai preliminari riscontri si è rilevato un mero prestanome. Come ricostruito dai finanzieri nel corso delle investigazioni, la ditta in questione era di fatto gestita da due professionisti di Paduli in provincia di Benevento che si avvalevano di tale schermo per effettuare gli acquisti di pellet da una fornitrice bulgara in modo da rientrare nel regime di esenzione dell'IVA previsto per le operazioni intracomunitarie. Sempre a queste persone, un commercialista e un consulente del lavoro, rappresentanti di altre due aziende, sono poi risultate riconducibili anche ulteriori tre imprese intestate sempre a teste di legno. Tra i titolari fittizi figura addirittura un pluri pregiudicato napoletano che nel periodo di attività della società formalmente amministrata era recluso in carcere. Si è in questo modo delineato il classico schema della frode carosello che nel caso di specie si è sostanziato nell'utilizzo di quattro imprese fantasma, mediante le quali veniva fatto risultare l'acquisto del legname dall'estero e la successiva vendita ad altri coinvolti compiacenti residenti nel territorio dello Stato. Grazie alle meticolose indagini anche di natura finanziaria e tecnica e attraverso mirate perquisizioni è stato scoperto che gli approvvigionamenti del prodotto avvenivano infatti direttamente dal paese bulgaro ad un costo decisamente inferiore alla media di mercato. Giunta in Italia, la merce poteva essere infine rivenduta a prezzi concorrenziali, non avendo mai scontato il versamento dell'imposta quantificata in 2,2 milioni di euro, il cui adempimento veniva in ogni caso addebitato alle società cartiere, creato al solo scopo di emettere le fatture a favore dei clienti finali, omettendo del tutto l'assolvimento dei conseguenti obblighi di IVA. Nel corso degli approfondimenti è peraltro emerso che una di queste ultime tecnicamente definite missing traders aveva pure ricevuto circa 100.000 euro di contributi a fondo perduto, aiuti stanziati dal governo per il sostegno delle imprese gravemente colpite dalla crisi post-pandemica in assenza degli specifici requisiti, sfruttando false dichiarazioni che attestavano un considerevole calo del fatturato determinato dalla situazione di emergenza sanitaria. Le somme percepite erano state impiegate dagli indagati nell'acquisto di beni più vari, tra cui un'auto di lusso, un calcio balilla, capi d'abbigliamento e prodotti elettronici. L'immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare quasi interamente gli importi erogati, sottoponendo a sequestro un veicolo del valore di circa 20.000 euro e disponibilità finanziarie per circa 60.000 euro.